Un evento ideato per stupire, o meglio per abbagliare, visto che il filo conduttore sarà la luce. Verrà inaugurata il 4 novembre a Como la prima edizione di 8208 Lighting Design Festival. In cinque luoghi simbolo della città di Como verranno esposte altrettante installazioni luminose. Il Palazzo del Bruoletto, il Teatro Sociale di Como, il Mono di Viale Geno, Piazza San Fedele e Portatorre. Durante i 23 giorni del festival verranno proposti eventi speciali e workshop sul tema della luce da un punto di vista artistico. Già il nome descrive un po' il festival perché 8208 è l'asteroide dedicato a Volta, quindi il festival vuole essere veloce, acceccante e che crei stupore ai cittadini e anche ai turisti. Il cuore del festival saranno cinque installazioni size specific, quindi come la Light Art può andare a creare un dialogo con l'architettura e con il tessuto urbano. Quindi saranno cinque installazioni in cinque luoghi che rappresentano Como. e quello che si vuole fare è creare appunto dello stupore. Intorno a queste cinque installazioni esposte dal 4 novembre al 26 novembre ci saranno anche degli eventi corollari che avranno il focus sempre sul tema della luce. Il festival è promosso da Fondazione Alessandro Volta, Comune di Como e Festival della Luce con il contributo di Fondazione Cariplo e con il patrocinio della Triennale di Milano.